Eccoci cari quaddisti, siamo finalmente senza controluce, vi possiamo far vedere la Gianji in Piazza Duomo con il suo Siguainini, guardala che sta arrivando, spettacolare, Guglietta del Duomo, allora Gianji com'è che va? C'è da posto? Guarda quanta gente, è uno spettacolo, ragazzi facciamo una panoramica di Piazza Duomo Domenica di Pasqua in Piazza Duomo C'è la piazza veramente gremita e guarda la Gianji come sta andando Signori, dal ferro della Gianji, due monociclisti pazzi quando non sono sul quad Un grande saluto da Piazza Duomo a Milano, buona Pasqua a tutti Eccola, eccola che arriva, guarda, guarda, una bambina, una bambina Ciao belli